Professore Neuval, qual è l'importanza della collaborazione con il Museo Bergman e Neolardo di Siria Pensa? Ma dunque, è una cosa importante a più livelli, è importante per noi come artist meccanici perché per quanto ci concerne è sempre una cosa preziosa il fatto di poter portare la nostra esperienza in ambiti divulgativi, didattici, noi abbiamo anche un'anima didattica, ma sostanzialmente partiamo dalla ricerca e dalla rifluzione filologica dei processi tecnologici dell'antichità, per cui tutte le volte che questo poi ha un esito di grande pubblico per noi è una grande soddisfazione e anche perché pensiamo che sia utile perché in questo mondo moderno in cui la velocità della comunicazione, l'approssimazione della comunicazione diventa un po' lo standard, quando ci si può fermare in un posto come questo a riflettere su alcuni principi di fisica, di storia, alcuni concetti eccetera, secondo me è qualcosa di estremamente prezioso e poi una cosa estremamente importante per una città come Siracusa, ora io non sono siracusano quindi come dire parlo da turista, diciamo così, però ecco se io fossi un siracusano penso sarei molto felice di sapere che tutti quelli che vengono a visitare la mia città hanno a disposizione un patrimonio come questo di informazioni e anche una fonte di intrattenimento decisamente inusuale per i tempi correnti, ecco. Ok, grazie.